Così quando l'uomo discute ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace, così il modo di ragionare è il banco di prova per l'uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero, così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lo dà a nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Parola di Dio. Grazie a tutti. E' bello rendere grazie al Signore e cantare al Tuo nome altissimo, annunciare al mattino il Tuo amore, la Tua fedeltà lungo la notte. E' bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come padre, crescerà come cedro del limano, e andati nella cazza del Signore, fioriremmo negli apri del nostro Dio. E' bello rendere grazie al Signore. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia. In Lui non c'è valvacità. E' bello rendere grazie al Signore. E' bello rendere grazie al Signore.